dalla padella alla brace dal maestro di cappella della chiesa cattedrale griadussov era seduto l'avvocato kalyakin e rigirando fra le mani un avviso del conciliatore intestato a diceva qualunque cosa diciate dossier fei petrovic siete in colpa io vi stimo apprezzo la vostra buona disposizione ma con tutto ciò debbo con rammarico farvi osservare che avete torto sì signore torto voi avete insultato il mio cliente de revyaskin beh per che cosa l'avete insultato ma chi diavolo ha insultato si scaldava griadussov un vecchio alto dalla fronte stretta poco promettente e le sopracciglia folte con una medaglietta di bronzo all'occhiello io gli ho soltanto fatto una predica morale soltanto agli imbecilli bisogna insegnare se agli imbecilli non si insegna non ti lasciam più vivere ma dossier i petrovic voi non gli avete fatto un predicozzo voi come gli dichiara nella sua istanza l'avete pubblicamente segnato a dito gli avete dato dell'asino del farabutto e simile e una volta avete perfino alzato la mano come se voleste reccargli offesa con atti ma come non picchiarlo se lo merita non capisco ma capite dunque che non avete alcun diritto di far ciò io non ho diritto beh questo poi scusate andate a raccontarlo a qualcun altro ma non infinocchiate me di grazia lui da me dopo che dal coro vescovile lo invitarono a spintoni ad andarsene dieci anni ha servito nel mio coro io sono il suo benefattore se volete saperlo se si arrabbia perché l'ho scacciato dal coro lui stesso ne ha colpa io l'ho scacciato via per della filosofia filosofeggiare può soltanto una persona estruita che ha terminato i corsi ma se tu sei un imbecillo se sei di poca intelligenza statene in un cantuccio e taci taci e ascolta come parlano le persone intelligenti lui invece tanghero spiava soltanto il destro di metter fuori qualcosa del genere qui c'è prova di canto o si dice una messa e lui a parlare di mismark e non so quali gladstone lo credete un giornale la caraglia faceva venire e quante volte l'ho picchiato scidenti a motivo della guerra russo turca non potete figurarvelo qui bisogna cantare e lui si è chinato verso i tenori e avanti a raccontar loro come i nostri hanno fatto saltare con la dinamite la corazzata turca liuf di zelil o che questo è ordine certo fa piacere che i nostri abbiano vinto ma da ciò non segue che non si debba cantare anche dopo la messa puoi discorrere un porco in una parola dunque voi lo insultavate anche prima lui prima nemmeno soffendeva sentiva che io facevo ciò per il suo stesso bene lo capiva sapeva che i più anziani ai benefattori è peccato contraddirli ma quando andò nella polizia come scrivano beh la fu finita montò in superbia smise di capire io dice non sono più un cantore adesso ma un funzionario farò l'esame dice da registratore di collegio beh sei un imbecille dico dovresti dico sciolinare un po meno filosofia e soffiarti un po più spesso il naso sarebbe meglio che pensare ai gradi a te non i gradi si addicono ma la povertà non vuol neppure ascoltare ma ecco prendiamo anche solo questo caso perché mi ha querelato davanti al conciliatore beh non è razza di beceri sono seduto nella trattoria Samupluyev e sto bevendo il tè col nostro fabbricere di pubblico un buscherio non un sol posto libero guardo e lui è seduto pure lì tra canna birra coi suoi scrivani è così elegante alzato il muso persa alzita le mani tendo l'orecchio parla del colera beh con lui che ci volete fare filosofeggia io sapete sto zitto paziento chiacchiera penso chiacchiera la lingua non ha osso a un tratto per disgrazia la macchina si mise a suonare lui si intenerì il becero salzò e disse ai suoi amici beviamo dice alla prosperità io dice sono un figlio della mia patria e uno slavofilo del mio paese espongo il mio unico petto venite fuori nemici a tu per tu chi non è d'accordo con me desidero vederlo e come picchio il pugno sulla tavola qui non resti più ma vicino a lui e dico delicatamente ascolta ossip se tu porco non capisci nulla è meglio che taccia e non discuta una persona istruita può filosofare ma tu calmati tu sei un verme sei cenere io ho una parola a lui e lui dice a me e via e via io naturalmente parlo per il suo bene e lui per stupidità si offese ed ecco che reclamò al conciliatore si sospirò kagliakin male per qualche bazzecola il diavolo sa quel che è successo voi siete un uomo di famiglia stimato e ora questo processo discussioni chiacchiere la detenzione è necessario mettere termine a questa faccenda dossifia i petrovic avete una via d'uscita alla quale consente anche delle viaskin voi verrete oggi con me alla trattoria di samoklujev alle sei quando si riuniscono là scrivani attori e l'altro pubblico davanti a cui l'avete insultato e vi scuserete con lui allora egli ritirerà la sua istanza avete capito? suppongo che acconsentirete dossifia i petrovic vi parlo da amico voi avete insultato delle viaskin l'avete infamato e soprattutto avete gettato un sospetto sui suoi lodevoli sentimenti ne avete perfino profanato quei sentimenti al nostro tempo sapete non si può far così bisogna essere un po' più cauti alle vostre parole è stata attribuita una tal sfumatura come dirvi che al nostro tempo insomma non va ora sono le sei meno un quarto vi fa comodo venire con me? Gryasudov crollò il capo ma quando Kaliakin gli ebbe dipinto a vive tinte la sfumatura che era stata attribuita alle sue parole e le conseguenze che da quella sfumatura potevano derivare Gryasudov si prese paura e acconsentì voi badate dunque a scusarvi come fa d'uopo in piena regola insegnavo l'avvocato cammin facendo verso la trattoria avvicinatevi a lui dando del voi scusate ritiro le mie parole e altre tali cose giunti in trattoria Gryasudov e Kaliakin vi trovarono tutta un'accolta di gente lì erano seduti mercanti attori pubblici impiegati scrivani della polizia in genere tutta la schiuma che aveva costume di riunirsi nella trattoria alla sera a bere il tè e la birra fra gli scrivani era seduto lo stesso delle viaskin un giovane d'età indefinita sbarbato con gli occhi che non batteva in ciglio naso schiacciato e i capelli così ispidi che a guardarli veniva voglia di pulirsi gli stivali in suo viso era così felicemente conformato che una volta datagli un'occhiata si poteva riconoscere tutto che era un ubriacone e cantava da basso ed era sciocco ma non tanto da non considerarsi una persona molto intelligente veduto il maestro di cappella che entrava egli si sollevò e mosse i baffi come un gatto l'assemblea evidentemente preavvisata che ci sarebbe stata pubblica ammenda aguzzò gli orecchi ecco il signor Gryadus soffè d'accordo disse Kaliakin entrando il maestro di cappella saluta qualcuno si soffiò il naso rumorosamente arrossì e si accostò ad Eriviaskin scusate borbottò senza guardarlo e ficcando in tasca il fazzoletto davanti a tutta la compagnia ritiro le mie parole mi scuso disse con voce di basso Dereviaskin e dettato uno sguardo vittorioso a tutto il pubblico sedette io sono soddisfatto signor avvocato vi prego di chiudere la faccenda mi scuso continuò Gryadus soff scusate non mi piacciono i dissapori vuoi che ti dia del voi e sia lo farò vuoi che ti stimi una persona intelligente e sia ti sputo su io fratello non servo rancore che il diavolo tassista ma voi permettete scusatevi e non ingiuliate invece come devo ancora scusarmi io mi scuso soltanto ecco se non vi ho dato del voi è stato per dimenticanza non devo già mettermi in ginocchio mi scuso e ringrazio perfino dio che hai avuto abbastanza senno per troncare questa faccenda io non ho tempo di biglionare per i tribunali non ha mai fatto cause non ne farò e a te non consiglio né a voi cioè certo non volete bere alla pace di santo Stefano anche bere si può solo che tu fratello Sip è un porco non già che io ti insulti ma così per esempio un porco fratello ricordi come ti buttavi ai miei piedi quando dal coro vescovile ti cacciarono a spintoni eh tu osi sforzer querela contro il tuo benefattore un grinta sei tu un grinta e non hai vergogna signori avventori non ha vergogna permettete queste sono di nuovo ingiurie che ingiurie io ti parlo soltanto ti faccio la morale ho fatto pace e lo dico per l'ultima volta non penso a ingiuriare starò io ad avere rapporti con te lupo mannaro dopo che esporto querela contro il tuo benefattore ma vattene al diavolo non desidero nemmeno parlare con te e se ora impensatamente t'ho dato del porco un porco sei invece di pregar dio in eterno per il tuo benefattore perché durante dieci anni t'ha nutrito ed ha insegnato la musica tu sborgi una stupida querela e mandi da me vari diavoli di avvocati permettete dosifia e petrovic soffese kagliacchini non dei diavoli sono stati da voi ma ci sono stato io un po più cauto vi prego ma che io parlo di voi venite magari ogni giorno siete il benvenuto mi fa meraviglia soltanto che voi abbiate terminato i corsi ricevuto un'istruzione e invece di far la morale a questo tacchino gli tenete la mano ma io al vostro posto in carcere lo farai marcire e voi perché vi arrabbiate mi sono pure scusato che dunque v'occorre ancora da me non capisco signori avventori siate testimoni io mi sono scusato ma di scusarmi un'altra volta con un imbecille qualunque non ho intenzione siete voi un imbecille chiocciò sip e dall'indignazione si batte il petto io un imbecille io e tu puoi dirmi questo griadussov si imporporò e fu preso dal tremito e tu hai usato prenditi questo e oltre all'averti adesso farabutto dato un ceffone presenterò anche querela contro di te al conciliatore ti insegnerò io a insultare signori siate testimoni signor delegato perché state lì a guardare mi insultano e voi guardate pigliate uno stipendio e quando c'è da badare all'ordine allora non è affar vostro credete che anche per voi non ci siano giudici a griadussov si avvicinò al delegato e cominciò una storia di lì a una settimana griadussov stava davanti al giudice conciliatore ed era processato per ingiuria delle viaschi all'avvocato e al delegato di sezione a quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni sul principio non capiva se fosse querelante o imputato ma poi quando il conciliatore lo condannò cumulativamente a due mesi di detenzione sorrise con amarezza e borbottò ma hanno insultato e sono io che debbo ancora star dentro a meraviglia bisogna signor giudice conciliatore giudicare secondo la legge e non sofisticando la vostra mammina buonanima barbara serghevna che dio le accordi il regno dei cieli quelli come ossip ordinava di fusticarli e voi li proteggete che mai ne verrà voi li assolvete i furfanti un altro li assolve dove andare in tal caso a reclamare dalla sentenza si può appellare nel termine di due settimane e prego di non discutere potete andare certo oggi dico il solo stipendio non si vive proferì grassudov e ammiccò significativamente per forza se si vuol mangiare si schiaffa l'innocente in gattabuia è così e non si può far colpa che cosa nulla nulla dicevo così a proposito di sciapensi che vesen voi credete perché portate una catena d'oro che per voi non ci siano giudici non datevi pensiero scoprirò gli altarini serviva un processo per oltraggio al giudice ma intervenne l'arciprete della cattedrale e la faccenda in qualche modo fu soffocata portando la sua causa davanti al collegio dei conciliatori riadusov era convinto che non solo lo avrebbero assolto ma avrebbero perfino messo in carcere o sip così pensava anche durante la stessa discussione della causa stando in piedi davanti ai giudici egli tenne un contegno pacifico riservato senza dir parole superflue una volta soltanto quando il presidente lo invitò a sedere si offese e disse forse che nelle leggi è scritto che il maestro di cappella debba sedere a fianco del suo cantore e quando il collegio confermò la sentenza del conciliatore strizza gli occhi come che cosa domandò come volete che l'intenda voi a che proposito il collegio ha confermato la sentenza del giudice conciliatore se non siete soddisfatto potete ricorrere in cassazione se signore vi ringraziamo sentitamente eccellenza per il pronto e giusto giudizio certo col solo stipendio non si può vivere questo lo capisco benissimo ma scusate troveremo anche un tribunale incorruttibile non starò a riferire tutto ciò che riadusov spiattellò al collegio presentemente sotto processo per oltraggio al collegio e non vuole ascoltare quando i conoscenti cercano di spiegargli che è colpevole è convinto della sua innocenza e fede che presto o tardi gli diranno grazie per gli abusi da lui scoperti con questo imbecille non ci puoi far nulla dice il priore della cattedrale agitando sfiduciato la mano non capisce è wille Grazie a tutti.